Questo è un video di ringraziamento per tutti gli amici, parenti, conoscenti, vicini e lontani. Tutti coloro che mi sopportano e mi supportano. Oggi il mio canale YouTube ha raggiunto i 5.000 iscritti. Un milione di visualizzazioni. Grazie, grazie a tutti voi. Di gradire sempre più la semplicità, tecnica e conoscenza dei nostri antenati. Sì, lo so, personalmente sono stata affortunata a crescere con due bisnolle. Apprendere il loro metodo di conservazione, naturale e non. La cultura della semina. Del riconoscere e raccogliere piante selvatiche, andate dimenticate. Senza usare diserbanti e erbicidi chimici, ma fare il proprio composto. Seminare quel po' di grano, tanto quanto basta. E godere il suo germoglio svolazzare al vento. Cucina semplice e pane fatto in casa. Li avevo dimenticati. E dal cassetto della memoria mi sono riaffiorati. E come il loro, anche il mio pane si lascia guardare. Mmm, che buono! Le pizze, dolci, erbe curative. Tra l'odore del mare, della montagna e campagna, vi dico grazie amici, grazie davvero. Ricordo ancora quando aprì il canale due anni fa. Senza conoscenza informatica. Senza sponsorizzazione. Nulla, nulla di tutto ciò. Quando decisi che la mia conoscenza, ammettra mandata dalle longevi bisnonne, doveva essere divulgata al mondo intero, a voi tutti, amici, che mi state seguendo con passione, con ardore, grazie. Fate in modo che i miei video raggiungono i vostri cari, amici, parenti, tutti. Chissà, forse un domani potranno servire. Ed ora abbraccio tutti voi. Grazie, grazie di esserci e grazie di esistere. Un caro augurio a tutti voi. Buona salute!